Si riparte con l'open weekend negli hub vaccinali. L'iniziativa è pensata per imprimere una accelerazione alla campagna di immunizzazione attraverso l'accesso alle dosi vaccinali senza prenotazioni. Questa volta si aggiunge l'opportunità per over 80 e over 60 appartenenti alla elevata criticità comprovata dai certificati medici. Si avrà così l'opportunità di ricevere le dosi Pfizer, BioNTech e Moderna oltre a quelle AstraZeneca. Questo solo nel lab in fiera di Messina. L'ufficio per l'emergenza covid della città comunica una cospicua affluenza. La gente è in fila per padiglione e corsie e si accederà per prenotati e non prenotati.